Di Mocco Conegliano ha vinto la Supercoppa Italiana di Pallavolo Donne battendo il Novara per 3 a 1. Le Venete non perdono una partita dal dicembre del 2019 e anche oggi sono state trascinate al successo da Paola Egonu, autrice di 24 punti. La Pallavolo è partita dal Palapanini di Modena la stagione 2021-22 di Serie A femminile ed è partita bene per gli Mocco Volley Conegliano che ha vinto per 3 a 1 contro Igor Gorgonzola Novara in palio la 26esima Supercoppa Italiana. Le Pantere, vincitrici lo scorso anno di Scudetto e Coppa Italia, hanno affrontato le finaliste di entrambe le competizioni. Conegliano e Novara si sono contese l'ennesimo trofeo, quella nella città emiliana e la quarta finale nelle ultime 5 edizioni della Supercoppa Italiana giocata da Venete e Piemontesi.